È evidente che questa è una scuola importante, c'è il Bari, il Bari è un punto ideale di merita, come si merita, non abbiamo cercato di controbattere un primo, abbiamo perso qualche contrasto di troppo sul centro campo, però aspettate, pensiamo già all'altra gara, adesso abbiamo qualche settimana per recuperare, per lavorare ovviamente, bisogna alzare la testa, bisogna fare con la corinale per fuggire, scusate, il calcio in fin dei conti è anche un gioco facile, la differenza ha fatto soprattutto la qualità, la parte della legionaria dei singoli, abbiamo stessuto con la sua realizzazione. Sì, ma abbiamo fatto qualche errore di portazione, è evidente la prima palla che hanno, fortunatamente, anche se non so come c'era affatto qualche ragione, tanto, mi fate aspettate che mi s'accentere, mi sembra che se non passava da questo turno, mi troppo, e a me la cosa che mi è piaciuta è che quando abbiamo preso il successo della scuola quella spada non era in sistema, cercava di reagire, ecco, bisogna crederci assolutamente. Grazie.